Buongiorno a tutti e buon sabato. Stamattina volevo fare una nota, non un'osservazione, per carità. Queste catene che voi mandate in giro, per il bene e tutte le cose varie, diciamo con la parola stonzate, perché io vi giudico le stonzate. Gesù ha detto, quando volete qualcosa, non state lì a dire, prego qui, prego lì e cavolate vadi. Ci ha insegnato una sola preghiera e la ripeto io. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetta a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non indurci in tentazione, ma liberci dal male. Basta solo questa preghiera. Non c'è bisogno delle catene. Ok? Buon sabato e weekend. Ciao, buon titolo.